All right guys, buongiorno a tutti e benvenuti finalmente in questo nuovo video, ragazzi come potete vedere oggi siamo in piazza San Pietro e andremo dalle persone, ovviamente con la mascherina alzata, andremo a chiedere cosa pensano le persone del bodybuilding ovviamente andrò a chiedere se fanno palestra, qual è il loro pensiero rispetto ai bodybuilder, vediamo un po' tutte le persone cosa ne pensano Cosa pensi della palestra in generale, del bodybuilding, sia a livello professionistico che non? La prima cosa è la salute, perché prima di tutto viene fatto sempre con un certo criterio, a meno di quello che faccio e poi punto totalmente che la base di tutto è sempre l'alimentazione, perché devo allenare bene come ti pare ma se c'è l'alimentazione giusta non fa solamente nulla What do you think about bodybuilding, lifestyle, sport? I think it's very good, because bodybuilding is like part of... for healthy, good for healthy, it's important for your body, your healthy and your soul If you have a good form, you have a good health and a good life mentality Ok, ok, ok Voi cosa pensate dei bodybuilder, palestra in generale? Io la pratico da due anni, è uno sport, cioè non è giusto dire che non è uno sport Quindi pensi che sia magari anche uno stile di vita? Sì, tutto per quanto riguarda l'alimentazione Alimentazione, cioè l'alimentazione I want to know your opinion about bodybuilding and stuff like that, because you know what is bodybuilding? I don't have a very strong opinion for or against it, I think that it can be a fun sport if that's something you're into, but it also takes a lot of time Io no, non lo pratico, però lo considero uno sport anche io, alla fine, fa comunque attività fisica, quindi è un modo per mantenersi in forma, anche per eccellere, fanno alcuni concorsi Ok Cosa pensi del bodybuilding? Il bodybuilding è un'attività, non lo definirei sport, ma attività utile, molto salutare finché si fa natural Non capisco il puntare al fisico fino a se stesso, attività come la ginnastica artistica, il calisthenics, attività simili hanno uno scopo, diciamo ulteriore And what do you think that is a real sport or a lifestyle, maybe? I think it's like lifestyle, it's like a part of your life, you like food, you like miss and friends, you like sport like bodybuilding too So it's very important for me and for my friends too Ok, but you go to the gym? Yes, I go to the ricks, maybe, do you know this exercise? Ok Quindi consiglieresti una persona di andare in palestra? Sì Di cambiare il proprio fisico e cambiare la propria forma fisica in meglio? Per faccia di volontà, sì Sì, sì Ok, va bene Ok, va benissimo Raga, ovviamente un sacco di persone non si fermano e ci scagano di brutto Sappiate che ho chiesto a una coppia e questa qua mi ha detto considerazione pessima e poi si è andata via Cioè raga, io infatti questi video qua sappiate che ho bisogno del vostro supporto almeno 1000 like per supportare il video perché Certe volte mi prendo degli sberloni dalle persone che sembra che gli abbia chiesto di andare a dormire in casa loro Comunque, vabbè, supportate il video con un like Cosa pensi della palestra e del bodybuilding in generale? Allora, più o meno del bodybuilding, scusatemi Penso che comunque sia uno degli sport, almeno così possiamo dire, uno dei più grandi Anche perché tu allenandoti puoi tenere attivo sia il tuo corpo che sia la mente Quindi è una cosa perfettissima, sia dalla tenereità che comunque anche diventando più grandi Essendo anche più esperti Ovviamente bisogna anche abituarsi con gli allenamenti integrando anche una buona alimentazione Cioè, ammiro tantissimo i bodybuilder, la dedizione che ci mettono Ma non capisco la dedizione al puntare al fisico sempre migliore come unico obiettivo Ok, quindi, vabbè, a parte questo, tu pensi che una persona che comunque è grassa, che si approccia al mondo della palestra faccia bene Però non pensi che, cioè, non lo consiglieresti a livello... Cioè, se una persona diventasse ossessionata ad andare in palestra, diresti di cambiare completamente sport? No, non dico questo Dico che ognuno deve seguire le sue proprie passioni E non sono nessuno per dire, ok, tu non devi far questo Però, forse per me, io non approccierei il bodybuilding a livello, appunto, potrei dire, professionale O comunque, andare in palestra più di 4-5 volte a settimana Ok Perché diventa innaturale e un unico obiettivo, secondo me, non è una cosa troppo sana E da quanti anni pratica palestra? Molti anni, però ho fatto vari sport Marti marziali, però ho trattata leggera Però poi, ovviamente, per il mantimento fisico, palestra Certo E non pensa che potrebbe diventare un'ossessione andare in palestra? Il bodybuilding in generale, alimentazione, allenamento, stare sempre a seguire una scheda, tutte cose mirate? Sì, diciamo che poi, effettivamente, quando, dopo parecchi giorni che nulla fai, ne senti una necessità I think that it can be considered a lifestyle or sport, depending on how you treat it Ok, and what do you think about to the people that are focused all the time, other things, drugs and stuff like that, that is not healthy? I think that an obsession with anything to that extent is not healthy, it's not limited to just bodybuilding So, yeah, that's not healthy, using steroids and stuff I don't think that that's a healthy And I don't think that's, like, exclusive to bodybuilding In any sport you can abuse steroids Yeah, yeah Certo, certo, certo Ma pensi che, vabbè, ovviamente ti ho detto alimentazione, allenamento, devi essere un po', un po' focused Insomma, sì Esatto Ma pensi che potrebbe diventare un'ossessione andare in palestra? Oppure pensi che, boh, ci sta mantenersi in forma però fino a un certo punto? Allora, ti dico Tendendo di tenersi in forma, sì Può diventare un'ossessione, almeno dico all'inizio Perché comunque, tu essendo non in una forma ottimale Appena inizi a vedere i primi risultati Ti focalizzi là col focus Sei preso bene Sei preso bene, quindi potrebbe diventare una stessa di ossessione Se almeno così possiamo dire Però con il resto, sì Ossessione non credo, però comunque Ti avvicini, appunto, sempre più al tuo risultato Quindi penso di sì Tu quindi vai in palestra regolarmente? Da quanti anni? Ormai me ne ando da tre anni Ah, ok, bene Non tantissimo, però comunque, sì Abbastanza Quindi consiglieresti la palestra? Assolutamente, sì Magari anche la tua ragazza che non si sta facendo riprendere? Certo, sì L'hai provata a portare E tu sei andata? Certo Ok, va bene Ok, va bene Ok, grazie mille Tu vai in palestra? Sei mai andato in palestra? Io sono arrampicatore agonista Ginnasta E faccio calisthenics Ah, ok, ho capito Ok E tu quindi segui una dieta E allenamenti di calisthenics? La dieta principalmente mangio Cerco di mangiare sano Ma di base non regolo né quantità né calorie che assumo Magari prima di un allenamento cerco di assumere proteine Tre ore prima carcoidrati Le regole base, diciamo, per far riuscire bene l'allenamento Ok, però tu hai un programma specifico per... Tu, dato che fai calisthenics e ginnastica Calisthenics me li faccio da solo i programmi Lo faccio da cinque anni, quindi ho, diciamo, un minimo di esperienza Rampicata ho dei coach che mi seguono Ok, ho capito But you stay on diet? Or you just eat the food that you like to eat? I regular to visit Ok, ok, you have a regular food to eat Suggest to the people to go to the gym Or maybe try other sports I think people choose for good for an individual person Ok, ok And choose them, like, simple, only gym, like, running Or the Eurics, I choose the Eurics Yoga, maybe, cool option too E cosa pensi delle persone, cioè i bodybuilder a livello professionistico Assolutamente non così, quello stile di vita O pensi che... No, no, no Che sia comunque... Io lo approvo comunque Lo approvi? Il fatto che comunque potre esagerino con, ad esempio, sostanze Sostanze, certo E diciamo è un po' un'esagerazione Ok, quindi entrambi fate palestra Ok, ok Questo te lo posso assicurare E lei consiglia comunque in generale alle persone di approcciarsi al mondo dei pesi Anche se magari lo stereotipo del palestrato è arrogante No, no, è passato di moda, è passato di moda Ok, lei pensa Se tu vedi è più bello il fisico scolpito che quello di massa muscolare enorme Ok Tu non hai bisogno di fare cose crazy Ok Ok La differenza è quando ti giochi al soccer, come, o qualsiasi altro gioco come Tu non puoi aburre le droghe per direttamente mostrare successo Con il bambino, se hai steroidi, i nostri muscoli sono più grandi E quindi, tu puoi realizzare successo in modo che non puoi con altri sporti Ok ragazzi, siamo giunti alla conclusione di questo video Abbiamo visto opinioni diverse tra le persone, ci sta Io vi consiglio sempre comunque di allenarvi E di non far diventare il bodybuilding un'ossessione Se no davvero uscite fuori di testa Allenatevi bene State a dieta Sgarrate Ovviamente non eccedete Migliorate il vostro fisico Ma non che diventi un'ossessione Perché è la cosa peggiore in assoluto Comunque, io vi consiglio anche ragazzi Bulk È un'ottima scelta per quanto riguarda alimenti proteici E anche integrazione Quindi, se volete davvero migliorare ancora il vostro fisico In quell'1% in più Gli integratori vi possono servire E ovviamente anche questi snack qua proteici vi potrebbero servire Se vi è piaciuto il video ragazzi, mille like Ovviamente ragazzi iscrivetevi al canale Se vi è piaciuto questo format fatemi sapere Quest'altro nei commenti se ne volete ancora un altro Noi ci vediamo al prossimo video Noi ci vediamo al prossimo video